buongiorno buongiorno a tutti grazie per essere intervenuti eh un ringraziamento alle autorità agli operatori eh del settore ai colleghi che ci seguono eh in presenza e in remoto questa è un'iniziativa eh particolare eh come particolare è stata anche eh l'iniziativa che abbiamo portato avanti da settembre a gennaio aprendo le porte della nostra sede e ospitando una collezione di opere d'arte di proprietà della banca eh mirabilmente organizzata da Pierpaolo Pancotto eh e quindi eh innanzitutto io ci tengo a ringraziare i colleghi della sede e i colleghi della divisione patrimonio artistico del servizio logistica e servizi perché eh hanno consentito eh ogni sabato e domenica per quattro mesi di eh tenere aperta eh questa sede e eh fare in modo che più di quattromila visitatori potessero ammirare queste opere ma è stata anche l'occasione per eh visitare questo palazzo che eh sapete ha ha una storia eh è stata la casa di Ludovico Manin l'ultimo doge in Venezia poi deposto a Napoleone e quindi eh segna anche la fine della Serenissima eh questo palazzo poi eh dopo varie vicissitudini è arrivato alla Banca Nazionale del Regno con la Banca d'Italia qui noi svolgiamo le nostre attività istituzionali ma siamo in una città che non possiamo eh come dire rispettare per lo scrigno di arte cultura bellezza e anche fragilità che eh ci impone ecco di non dimenticare questi valori e quindi di mettere a disposizione della collettività appena eh se ne presenti l'occasione eh quindi questa è un'iniziativa particolare dicevo perché abbiamo voluto mettere eh a contatto eh l'arte e l'istituzione per interrogarci su come poter eh realizzare diciamo questo binomio non solo per la valorizzazione del patrimonio ma anche per eh rappresentare ecco il la nostra azione i nostri compiti e anche per stimolare un dibattito con attraverso eh questa iniziativa con le istituzioni per capire come poter valorizzare questo patrimonio anche perché ormai è impossibile pensare a dei compartimenti stagni eh noi stiamo leggendo il libro di Renata Codello che avremo il privilegio di presentare a Venezia tra qualche giorno e proprio eh queste sono le occasioni dove ci si può eh interrogare su come i privati possono eh tendere alla valorizzazione del bene collettivo e le istituzioni viceversa possono diciamo contribuire al di là del loro eh spettro di attività e quindi eh diciamo abbiamo invitato grazie anche a eh soprattutto a Renata Codello degli operatori del settore di eh rilevanza nazionale che vi racconteranno le loro esperienze nella seconda parte del dell'incontro ma abbiamo voluto eh inizialmente ehm diciamo rappresentare l'arte anche sotto il profilo economico ecco quindi il collegamento che ci può essere con le nostre attività e quindi eh ci sarà una presentazione di Emanuele Breda che è un nostro collaboratore collega della divisione ricerca economica territoriale e eh a seguire eh Andrea Baldin di Ca Foscari ecco eh svolgerà le sue considerazioni però prima di cedere la parola al dottor Ciro Vacca che è il capo dipartimento immobili appalti e il collega che ha le chiavi diciamo del patrimonio della eh della Banca d'Italia artistico eh volevo passare eh la parola alla all'assessore Zuin per un breve saluto. Buongiorno buongiorno a tutti eh benvenuti e chiaramente porto i saluti del sindaco Luigi Brugnaro che oggi poi è impegnato a maestre perché c'è l'Alza Bandiera e San Michele del patrono di mestre e ehm e di tutta l'amministrazione comunale chiaramente ma questa cosa mh questo titolo arti istituzioni è molto eh molto bello come eh diceva il dottor Ruggero eh questo connubio che ci deve essere tra privato collezioni eccetera e l'istituzione che è in grado magari di porre e di mettere a disposizione palazzi o spazi per questa esposizione è un connubio importante. Questo che avete fatto qui io purtroppo non sono riuscito a vederlo però si vedono le foto c'è il catalogo eccetera esatto dà la possibilità intanto di vedere un palazzo splendido come questo e che eh renderlo fruibile eh anche solo per vederlo al pubblico è fantastico e poi appunto coniugarlo con quelle che sono le opere eh della collezione che avete messo a appunto a disposizione in questa mostra. E per cui sono d'accordo come amministrazione sposiamo questa questa tesi che è anche bello il titolo proprio arte istituzioni e e per cui siamo a disposizione per qualsiasi tipo di collaborazione. Grazie all'invito e ancora grazie a tutti quanti voi. Grazie. Grazie. e colgo anche l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale perché ci mette a disposizione il teatro Goldoni per il nove di novembre in occasione appunto della tappa veneziana del eh viaggio con la Banca d'Italia e quindi in quell'occasione eh diciamo eh approfondiremo dei temi che sono cari qui a Venezia che riguardano la transizione climatica e il rischio climatico ma eh passo la parola al mio collega e amico Ciro Vacca capo dipartimento delle immobili appalti. Buongiorno a tutti grazie della presenza istituzioni e autorità. Eh grazie a direttore Ruggero a cui mi legano non solo le origini ma anche sentimenti di amicizia ma anche la condivisione di parecchi anni di attività di vigilanza non semplice nella nella Banca d'Italia. Eh un ringraziamento anche a tutti i colleghi della sede di Venezia, i colleghi dei miei due eh delle mie due divisioni, gli eventi, il patrimonio artistico perché organizzare questo tipo di iniziative non è una cosa eh molto semplice. Eh la mia sarà veramente una brevissima eh introduzione. Eh avevo individuato sostanzialmente due termini di firruge di questa mia breve introduzione che erano eh istituzioni e territorio ma eh dopo un breve ma piacevole eh confronto con la dottoressa Godello ne aggiungerei una terza e cioè fiducia. Eh anche per la mia pregressa esperienza in Banca d'Italia ripeto non breve ritengo che eh le istituzioni innanzitutto debbono essere una casa di vetro e la seconda cosa hanno un senso nella misura in cui sono legate ai territori nel momento in cui eh le persone che abitano nei territori avvertono le istituzioni come qualcosa che eh loro appartiene. Ora la Banca d'Italia in realtà eh è molto eh molto sensibile su questi aspetti anche se negli ultimi tempi probabilmente la percezione che può esserci stata è stata quella di un di un distacco. Eh questo tipo di rapporto lo si sta cercando di recuperare attraverso appunto questa iniziativa eh degli incontri con eh con il pubblico in giro con la Banca d'Italia ma anche attraverso l'utilizzo del patrimonio artistico. Eh il patrimonio artistico della Banca d'Italia non è paragonabile probabilmente a quello di una fondazione banca intesa però eh è formato da tutti in una serie di eh di di pitture di sculture di di assoluto valore. Adesso il vero tema è che uso farne di questo patrimonio artistico anche perché eh in realtà l'arte è come se fosse un giugiano bifronte. Da un lato c'è con l'economia e dall'altro c'è l'arte e la cultura in sé. Eh ora nel corso della della giornata ci saranno appunto il collega e anche professore che tratteranno probabilmente del tema di come l'arte incide sull'economia. Eh a me ha colpito che c'è stato un recente lavoro da parte di un collega della sede di Bari che ha fatto un'analisi economica eh di che cosa ha determinato l'evento di Matera Capitale dell'UNESCO. Vi cito solo qualche dato. Terminato l'evento l'occupazione nel settore privato è cresciuta del nove per cento, nel settore turistico del ventuno del ventisette per cento e i beni immobili e le abitazioni si sono rivalutate dell'undici per cento. Quindi l'arte è innanzitutto un veicolo fortissimo di traino eh del dell'economia. Tornando all'arte la nostra collezione eh ha una sorta di core business rappresentato da tutto ciò che era un patrimonio artistico appartenuto a Gualino che era un esperto d'arte che era finanziato dal Regno Unito e poi a seguito delle vicende non felici del della Banca del Regno Unito passarono alla Banca d'Italia. Negli anni la Banca d'Italia però questo patrimonio lo ha cresciuto con degli acquisti negli ultimi anni sempre nel senso di dare un po' l'esempio come istituzione in Italia eh le somme che erano destinate a questi acquisti sono state ridotte e ehm in questo caso si è fatta secondo me una scelta molto opportuna e cioè di investire queste risorse in artisti emergenti di tutta Italia quindi acquistiamo opere di artisti che riteniamo possono avere delle prospettive quindi che possono consentire l'acquisto di di più poeni e eh poter consentire loro di avere una visibilità. Nel contempo eh questo mi fa piacere citarlo perché insomma talvolta le cose che la Banca d'Italia fa passano un po' sotto traccia. Negli anni in quest'ottica di utilizzare l'arte come strumento di riavvicinamento ai territori la Banca d'Italia per esempio ha contribuito al restauro di Casa Balla che era eh un'abitazione che stava andando veramente in decatimento. È stata riportata attraverso degli interventi su tutta la parte degli impianti elettrici anche edili eh in una situazione sicuramente per chi dovesse trovarsi a Roma invito veramente a visitare. L'ha preso in gestione il Maxi. Adesso pare che dovrebbe acquistarlo anche il Ministero della della Cultura. In più eh grazie appunto alle iniziative della divisione patrimonio artistico e eh 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 anche della divisione eventi sono state organizzate mostre eh a Frascati, la mostra a Milano di di Balla, la mostra a Matera, questa bellissima mostra che si è tenuta qui a Venezia e eh vi anticipo che a novembre ci sarà eh una mostra analoga preso la nostra sede di Firenze e eh si è innescato un meccanismo estremamente eh positivo i nostri direttori anche per pressione che arriva da parte delle dei territori ci chiedono di fare analoghe eh analoghe mostre. Ecco per concludere il mio breve intervento di saluto fondamentalmente eh insomma voglio rendervi partecipi un po' di un sogno che io ho nel cassetto eh fra un anno e mezzo terminerò il mio percorso in Banca d'Italia che è durato appena quarantaquattro anni quindi sono entrato con i pantaloni corti e e il sogno del cassetto è o quello è quello di eh avere un museo itinerante eh di tutte le opere d'arti della Banca d'Italia in tutte le sedi e le filiali. Nel convincimento che nel frattempo eh l'attività delle nostre sedi e delle filiali sia sempre più intensa che il legame come eh sta avvenendo anche oggi e ne sono veramente felice sia estremamente forte e che alla fine di nuovo tutte le persone che abitano territori avvertono che la Banca d'Italia è la loro casa. Grazie, grazie.